secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di riguarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie iscritto al canale Però anche se chassi che si chassi chassi S happy I cani Sì, 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 sì. Sono dicé che ti, sì, sì. Ma la mia cari, non c'è sc intensive. C'è schicza. Sì che si sta bene. Ecco da, trynichi! Oì, ciao! Sì, siamo noi! E ora siamo i qui! Ora stiamo. Il si è morto! Ah Oi! Oi, i misi! No, i già arrivati! No, no, no! Actually, to be fair, se fosse COOP, hm... it wouldn't be called for the sex scene let's be honest i'll be kind of dodgy you're playing you're doing called with your mate and you start shagging each other yeah probably not holy shit your nudes just popped up in the mirror why on the monitor what are you talking about what the fuck wait oh it was there it was right there it was right there i missed it you saw something for real what are you guys talking about you know i have not to like be a mic to do it fuck off you're talking about astså le si 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 lun si 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 Sì, sì, sì. Ladao semperi che gli hai detto, guardo. Sì, ma lì che guarda, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Ok, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Ladao, firi, i faro di faro. Sì, guarda, guarda. Egli, guarda. Egli, guarda. Egli, guarda. Egli, guarda. Sì, guarda. Guarda gli stai, guarda. Sì, guarda, guarda. Sì, guarda. I lo soo stai. I think he does. The guy follow. I'm gonna trade. Uh, whatever. No! I meant to hit the guy! I meant to hit the guy! Not that j- Sì Prince Sì Sì È Sì 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 F gaze Sì Sì The information is amount to it, so please get out of here! Perché se ha l'aria anto, se dire è di noi che se O.K., WWU.O.RCA e di noi tui e di piacere sulla spessi segni 9900 B.O.O.RCA è chiettale? O.RCAE è tutto il risotto. Goro ha va vero? Ma ora non è la cosa? Ho vero. Ok, laisés! Their 69! Ciao a tutti Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé C'è? Ho Sì Sto qui nemmeno. C'è quello che ha fatto. Allora, Football,? Buoniasi. Buoniasi. Buoniasi, a te... Buoniasi. 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 Buoniasi, buoniasi? Buoniasi. Buoniasi per la casa di domani? Buoniasi. Buoniasi. Aoi Ladao è non di se, ma... Ma... Aoi Ladao... Cattplayamai nel senso? Catt nenhum, ma... Succhi di maisi... Eh... Succhi di qui ma... fillingf ao passo a 9 hiero? Cattaccio di qui sanno... Me dice... 6天... Cattaccio di qui... Cattaccio di qui? Mi dice... Cattaccio di qui... ...te qui? gauche... Nel setempo di qui la... Cattaccio di qui la... Ehm... Bocchè si venire? Voi sì? Sto un'è. Noi. Noni d'è. Moniz no boss si venirei. Hamba. Non. Fino. Dio. Bocchè? Dio. no 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 ande 会話しながらちゃんと下見てるのこわっ 偶然ね そろそろなんかヘリの後ろとかにも目ついてそのもの 青いのが聞く 怖いを打ってこれさあいいよヘリでいい 何でもいいよ アーケー 作るぞ 全然キレる目はあんなに触れたらもう無理よ ごめんねー マドアーケー i just saw the player count my god wow you know like i don't think though right if anyone wants to like be if anyone wants to play in like 4.0 or something this is the best time to like do it to get on make your make make your like character get make it make it like make her if it make like make a name for yourself now surely who'd you rp with i guess i don't know but it's more like you stream and just make the best of what you can do this would be the best time to come on if you sit there and keep it five hours now be the best time to be on and try and prove yourself because if you meet the right people it's not the best that's like the best time to do it i'd say